Ispira pensieri impuri, è mia cugina Veramente? Ah, tu togli la schitina? Sì, è mia cugina Che c'hai da dire? Gran bella fragola, gran bella fragola Non vede il cazzo da mia cugina? Questa è mia cugina, non voglio che postate più mia cugina qua È una fragolissima Scusa cuginetta, se stai guardando questa live Non l'ho minimamente previsto Ma a quanto pare sanno che sei mia cugina È sposata ragazzi, non fate Interessante È la figlia di zio Giulio? No, non è la figlia di zio Giulio, Tony, grazie di due euro Non è la figlia di zio Giulio, non lo è Giovanni che si vede per i sette mesi È praticamente la figlia Aspetta, è completa la figlia Non è proprio mi cugina cugina È la figlia del cugino di zio Giulio Perché è il cugino di mia madre Perciò è mi cugina di secondo grado? Oh niente Fede che ha sempre sei mesi Quando è del secondo grado? No, no ragazzi Non scrivete allora Poi scoparla Non è Non si parla di questo È disgustoso quello che è stato a di È disgustoso Secondo grado? Ok Tegamino Ma è un clickbait Oh? 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 Ma che tier list di merda è? Bokelive di merda Mamma mia Ho mi svegliati Bokelive di merda Benz Grazie a tutti.